Eccoci di nuovo in studio sulle fonti tv per andare avanti quindi con la nostra maratona donne e lavoro. Continuiamo a parlare del tema della parità di genere ma questa volta ci concentreremo sul mondo dei giuristi di impresa, cosiddetto mondo in house e lo faremo con il nostro ospite in collegamento che è l'avvocato Simona Musso, Gruppo General Counsel di Lavazza. Benvenuta avvocato. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Ecco io partiamo col dire che come abbiamo anche precedentemente sottolineato e come stiamo continuando a sottolineare in questo ultimo anno attraverso il nostro osservatorio di ENAI di Le Fonti le posizioni apicali degli studi legali sono presidiate dal genere maschile quindi diciamo poche donne arrivano alla stanza dei bottoni. Detto questo volevo capire da lei se nel mondo dei giuristi di impresa quindi diciamo il mondo aziendale la situazione è migliore o se si riscontrano un po' gli stessi ostacoli alla carriera che ci sono nella libera professione. Sì, innanzitutto io credo che non ci sia così tanta differenza nel mondo in house per quanto riguarda la parità di genere rispetto a quanto avviene nel mondo degli studi professionali. credo che fondamentalmente il fatto di avere maggiore o minore sensibilità, maggiore o minore cultura orientata allo sviluppo di una carriera al femminile dipenda molto appunto dalla sensibilità aziendale o dello studio di riferimento. Vedo, io non ho, leggo magari più numeri legati al mondo dell'attività professionale dove so che appunto appena una socia su cinque diventa donna, non ho la numerica onestamente, non ho la statistica del mondo in house se non leggendo le riviste insomma di riferimento e le varie classifiche, quelle per quello che può valere ovviamente una classifica, ma la numerica delle donne in house, general council, quindi che raggiungono diciamo il vertice della struttura organizzativa in un legal department, è comunque sempre decisamente inferiore a quella degli uomini. Credo che e infatti molto spesso si devono fare le classifiche a parte che io un po' detesto per il fatto appunto perché ci si tratta un po' come pandano, quindi le donne, le migliori 50 donne general council, come se fosse una categoria separata. Credo quindi che alla fine non ci sia, cioè le problematiche siano fondamentalmente esattamente le stesse, forse il mondo in house ha risentito ancora di più di una numerica femminile più allargata, questo soprattutto come fenomeno storico, perché una volta c'era un po' il pregiudizio che lavorare in azienda e fare appunto l'in house council rispetto alla scelta della libera professione fosse una scelta di maggior comodo per orari, per avere ovviamente una sicurezza economica e di prospettive, cosa che a mio parere rappresenta un fortissimo, rappresentava un fortissimo pregiudizio, adesso in effetti non c'è neanche più questa, perché ovviamente c'è maggiore consapevolezza di cosa significa realmente effettivamente l'impegno in house che è del tutto qualificabile in termini di orario, di flessibilità in termini di impegno a quello del mondo professionale. Quindi secondo me se dovessi analizzare il mondo in house rispetto al resto del mondo legale, obiettivamente credo che i problemi siano appunto esattamente gli stessi e sono fondamentalmente due, da una parte il fatto che la numerica di ingresso è identica se non fortemente sbilanciata in favore delle donne, perché sono tantissime le laureate in giurisprudenza, più della metà dei laureati in giurisprudenza sono donne, l'accesso quindi sia alla professione sia al mondo in house è fortemente sbilanciato, se vogliamo anche in azienda, diciamo al di là del numero in house, ma generalmente c'è comunque a livello di ingresso una sproporzione, uno sbilanciamento in favore delle donne. Quello che succede è che nel progredire della carriera si assiste ad un assottigliamento di questa proporzione per arrivare ovviamente ad uno sbilanciamento completo in favore degli uomini, questo sia a livello in house appunto sia a livello della libera professione. Questo è il famoso soffitto di cristallo di cui si è sempre parlato e si continua a parlare, che non permette effettivamente, che limita l'accesso ai livelli gerarchici superiori, quindi a livelli di carriera più avanzati alle donne. L'altro grande problema, l'altro grande ostacolo che abbiamo e che ci accomuna credo come donne in house, ma anche donne nella libera professione e d'altra parte diciamo che riguarda tutte le donne in azienda in generale è il gender pay gap, quindi esattamente come avviene nel mondo della libera professione si riscontra che le donne a parità di ruolo, quindi se vogliamo parlare di general counsel, ma in generale a parità di ruolo per tutto il mondo aziendale, guadagnano il 20-30%, poi le statistiche sono sempre difficili da interpretare anche perché la parità di ruolo è sempre difficile poi da identificare, 20-30% in meno rispetto agli uomini. Ecco, io credo che in questo non ci sia un mondo privilegiato in house rispetto al mondo della libera professione né viceversa. È chiaro che in house molto dipende per qualsiasi lavoratrice aziendale dall'azienda in cui ci si trova e quindi dalla sensibilità maggiore o minore che l'azienda ha nei confronti di queste tematiche. Ecco sì, infatti un po' dipende come diceva lei dal luogo in cui si lavora, quindi anche dagli strumenti, dalle agevolazioni che l'azienda o lo studio mette in campo a favore appunto anche dell'equilibrio vita-lavoro, il cosiddetto work-life balance per le donne che magari in certi periodi della vita ne hanno particolarmente bisogno, quindi penso alla maternità. Ecco, quello è proprio uno dei momenti purtroppo su cui ancora diciamo ci sono delle grosse difficoltà anche di proseguimento di carriera purtroppo. Andiamo però al suo, al caso, comunque all'esperienza in Lavazza. Ecco, volevo sapere come si muove Lavazza in questo senso, quali sono i progetti, cosa ha messo in campo per sostenere quindi anche l'equilibrio vita-lavoro, per sostenere insomma la diversity. Sì, Lavazza da diciamo dal 2017 è aderito, no dal 2020 scusate, dal 2017 si è aderito agli obiettivi dell'ONU di sostenibilità, quindi i 17 obiettivi dell'agenda di sostenibilità delle Nazioni Unite. Di questi 17 obiettivi ne ha selezionati 4 e uno di questi è l'obiettivo numero 5, quindi quello relativo proprio alla diversity. Che cosa significa aver aderito, aver inserito nella propria agenda, quindi nel proprio piano strategico, uno, questo obiettivo importante, significa aver deciso da parte dei vertici aziendali di investire nella cultura della diversity, quindi in un orientamento favorevole ovviamente alla riduzione della diseguaglianza di genere, ma non soltanto di genere, anche di diversità, soprattutto considerando che noi appunto siamo ovviamente un'azienda multinazionale, quindi queste tematiche sono tematiche sentite a livello internazionale, non soltanto in Italia. Diversità che ha portato a promuovere all'inizio del 2020, quindi prima dell'epoca pandemica, poi ovviamente questo progetto è stato gestito con qualche difficoltà, chiaramente a seguito dell'intervento del Covid, un progetto che si chiama Gap Free, ed è un progetto molto illuminato, io credo, un progetto in cui personalmente ovviamente credo molto, anche perché sono una forte sostenitrice anche a livello di leadership team, chiaramente per così dire madrina ecco di questo progetto, e che è un progetto che mira appunto a ridurre la diseguaglianza di genere e soprattutto perché poi il tema della riduzione nasce da, cioè il tema delle diseguaglianze di genere nasce da una tematica culturale, da un problema culturale e quindi ha l'obiettivo di intervenire sulla cultura aziendale e si è caratterizzato in una serie di fasi, ovviamente una prima fase di ascolto molto importante che ha praticamente comportato un questionario e una serie di interventi di interviste, il questionario ha riguardato i 5.000 dipendenti del gruppo, quindi è stato praticamente erogato a tutti i dipendenti, sia in Italia che all'estero, a seguito di questo questionario sono state esaminate le risposte, quindi ovviamente che cosa è stato analizzato, c'è stata una attività di valutazione di che cosa era emerso, soprattutto in termini di pregiudizi e di comportamenti che tuttora rappresentavano, potevano rappresentare un problema a livello di uguaglianza di genere. Da questa analisi è poi scaturito ovviamente un piano di azione con il coinvolgimento del, chiaramente del leadership team e del commitment, chiaramente dei vertici aziendali, piano di azione che ha portato ad adottare una serie di interventi, interventi che si stanno mettendo a terra proprio in questo momento, in questo periodo e che riguardano fondamentalmente tre aree. Da una parte una primaria di governance che ha comportato e ha portato a nominare un direttore diversity and inclusion, a creare una policy diversity and inclusion, a promuovere un'attività di segnalazione attraverso il whistleblowing di comportamenti non ritenuti corretti o comunque comportamenti inadeguati o comunque disagi, quindi ovviamente in forma anonima e in forma protetta. Ha comportato ecco il secondo livello, un livello di network, di networking, quindi l'adesione al valore donna, l'adesione ad altre diciamo piattaforme di scambio. Un intervento a livello di leadership e di workplace attraverso ad esempio la creazione di un gruppo, noi l'abbiamo chiamata men advocacy, quindi un gruppo di uomini che sono stati presi, selezionati su base volontaria per diventare ambassador, prima ovviamente essere oggetto di training e quindi imparare che cosa significa veramente diversity e quali sono soprattutto i pregiudizi perché poi tutte queste persone erano convinte di essere assolutamente anzi molto avanti nel concetto di uguaglianza mentre poi hanno riscontrato di non esserlo e dovranno poi essere ambassador in futuro appunto del progetto Gap Free. Il quarto livello, un livello di cultura proprio, quindi un livello di sviluppo, di learning, di engagement, la creazione appunto di questi ambassador che dovranno poi costituire dei focal point per tutta l'azienda e diffondere in qualche modo la cultura della diversity. Ecco credo che questo sia stato sia un progetto estremamente importante nato non soltanto per i dipendenti, per le dipendenti, per i dipendenti in genere ma nato anche in considerazione del fatto che le donne rappresentano in tutta la nostra supply chain un elemento fondamentale. Il 70 per cento dei coltivatori di caffè è donna, il 58 per cento di lavoratori nel mondo food service è donna e poi appunto ovviamente i buyer delle società, dei grandi acquirenti a livello della grande distribuzione per il 45 per cento è donna, quindi comunque una quota rilevante e quindi l'attenzione è un'attenzione non soltanto al dipendente, è un'attenzione a tutta la supply chain con interventi che riguardano appunto un supporto a tutti i livelli. Ecco guardiamo un po' anche diciamo ai prossimi mesi, quindi ci stiamo avvicinando si spera alla fine di questa pandemia però il problema ovviamente non è che non si esaurisce, non si non finisce anzi. Ecco le chiedo secondo lei cosa si può fare, cosa ancora c'è da fare per non dico proprio raggiungere l'assoluta parità di genere ma per lo meno avvicinarsi a questo traguardo, ecco secondo lei cosa le istituzioni possono fare o anche il mondo imprenditoriale? Sì, sappiamo tutti, lo leggiamo, l'abbiamo letto moltissimo che il disastro che il covid al di là ovviamente del disastro generale che a livello dell'economia ha comportato la pandemia nel mondo del lavoro e sotto questo specifico aspetto della parità di genere è stato veramente devastante perché chiaramente tutto ciò che sappiamo bene che le donne sono quelle che hanno pagato, le donne lavoratrici sono quelle che hanno pagato poi il prezzo principale sia in termini, il prezzo più grande più caro sia in termini di abbandono del posto di lavoro per poter seguire magari la famiglia sia in termini di riduzione del posto di lavoro e quindi chiaramente le donne come sempre accade sono l'elemento debole quindi spesso appunto sono le prime ad essere licenziate quindi a dover abbandonare il posto di lavoro. Credo che però per avere un'ottica positiva possiamo ritenere di imparare una lezione importante e di utilizzare magari qualche strumento che ci è stato dato in maniera un po' forzata ovviamente dalla pandemia in ottica di prospettiva positiva. Mi riferisco in particolare allo smart working di cui sicuramente anche le donne hanno spesso pagato il prezzo in termini di sovraesposizione da una parte lavorativa dall'altra con la cura comunque dei bambini magari i bambini più piccoli che dovevano anche essere seguiti nello studio che quindi sicuramente è stato un peso rilevante però io credo almeno personalmente sono convinta che sia anche uno strumento che deve essere utilizzato in futuro per i vantaggi positivi per la parte positiva che comporta e in senso smart non come lavoro da remoto ma smart working significa veramente flessibilità. Allora le aziende molte aziende che non avevano assolutamente questa attitudine che non avevano assolutamente nessun mai adottato uno strumento di di lavoro da remoto di comunque di smart working perché chiaramente non avevano nessun tipo di cultura sotto questo aspetto sono state costrette a farlo ed oggi probabilmente difficilmente torneranno indietro. Questo secondo me per le donne può rappresentare un'opportunità se giocata ovviamente non è l'unica opportunità ma la flessibilità del lavoro è qualcosa è una chiave comunque che gioca in favore chiaramente di un bilanciamento di carichi familiari non soltanto nei confronti dei figli ma anche dei genitori magari anziani può rappresentare effettivamente uno strumento di agevolazione. Penso ad esempio a colleghe che vivendo a Milano con la famiglia venendo a lavorare a Torino prima ad esempio prima dello smart working si trasferivano per cinque giorni alla settimana a Torino adesso probabilmente anche dopo la pandemia potranno usufruire magari di due giorni di smart working a casa e il che chiaramente faciliterà sicuramente oltre che gli spostamenti anche una vita domestica familiare sicuramente più bilanciata e oltretutto anche in termini di opportunità l'accesso a luoghi di lavoro più lontani dalla famiglia può essere magari più considerato se si considera appunto una possibilità di lavorare sotto in forma più flessibile. Chiaro che non può essere l'unico strumento dovrebbero esserci chiaramente degli interventi non è il mio campo e non mi compete non sono certo un'esperta però interventi a livello politico a livello governativo di sussidio su ausili come avviene in Francia politiche familiari molto più molto più importanti per sostenere effettivamente la famiglia considerando che effettivamente sempre meno donne fanno figli perché ovviamente non solo per l'incertezza economica ma anche per la difficoltà di conciliare una vita non diciamo neanche una carriera diciamo una vita lavorativa con una vita familiare e quindi ecco dovrebbe essere chiaramente le aziende possono fare molto io credo nel welfare nello smart working ma non basta certamente questo dovrebbe esserci un piano più strutturato più sociale politico a supporto della maternità a supporto della famiglia in generale insomma. Ecco lei prima parlava di un problema culturale lo ha ripetuto diverse volte volevo chiederle se in base alla sua esperienza quello che ha potuto vedere nella sua carriera professionale è un problema italiano rispetto allo scenario internazionale o diciamo un po le imprese italiane sono diciamo sono così sostengono la diversity come come all'estero perché spesso si è detto che magari all'estero prima diciamo la cultura dello smart working o della flessibilità è arrivata prima rispetto al nostro paese lei cosa cosa magari ne pensa di questo io credo che per quello che la mia esperienza sicuramente i paesi anglosassoni sono più avanzati sotto questo aspetto hanno certamente una maggiore sensibilità o quantomeno a livello formale sono molto più attenti culturalmente alla diversity e soprattutto a rispettare determinati parametri io dico a livello formale nel senso che hanno adottato anche delle policy molto più restrittive in Italia effettivamente secondo me siamo siamo ancora lontani quando mi riferisco a livello culturale peraltro poi aggiungo non soltanto la cultura aziendale io credo che sia anche che anche noi donne qua spendo pochissime parole per un'autocritica del genere femminile perché è una cultura anche nostra nel senso che io credo che noi dovremmo essere le prime promotrici di noi stesse molto spesso abbiamo la tendenza avevo frequentato qualche tempo fa un corso di leadership al femminile dove avevo imparato una cosa fondamentale che era che la differente differente approccio adesso senza generalizzare ma di molte donne nei confronti del lavoro era il seguente una donna che riceve una promozione o meglio un allargamento di responsabilità lo vede come una gratificazione personale un uomo che lo riceve riceve lo stesso tipo di allargamento di responsabilità oltre alla gratificazione personale chiede immediatamente il riscontro economico perché dice va bene ma siccome faccio di più devo guadagnare di più mi è stato detto io personalmente ero così sono ancora un po così effettivamente ma è stato detto che tipicamente femminile e su questo bisogna veramente lavorare che non devono noi non dobbiamo sentirci gratificate se ci danno una maggiore responsabilità certo perché siamo brave perché dobbiamo sempre dimostrare ai me come donne di essere più brave delle brave per fare carriera però dobbiamo essere anche in grado di chiedere perché non è detto che la gratificazione sia l'unico l'unica misura del dell'allargamento della responsabilità è l'unica contropartita anzi deve essere anche bilanciato dal punto di vista economico ecco sul gender pay gap credo che anche noi abbiamo delle responsabilità quindi questo culturale per le aziende ma culturale anche da parte delle donne secondo me da parte di noi che siamo protagoniste comunque di questo dirette di questo di questo tema bene io avvocato la ringrazio avvocato simona musso gruppo general council di lavazza grazie per essere stata con noi per il suo contributo grazie buon 8 marzo a tutti la maratona continua su le fonti tv